A Teramo Centro questa mattina è accaduto un fatto sconcertante, un fatto che lascia senza parole e ce lo facciamo raccontare adesso direttamente da lei, Franco Fracassa, consigliere, ma stamattina ha reagito anche da ex poliziotto. Ex, dice bene ma soprattutto i 60 anni si fanno sentire. Vi era questa coppia di ragazzi e di giovani che stavano lì a fare colazione, di cui uno è un noto avvocato, si è avvicinato questo ragazzo extracomunitario a chiedere dei soldi. Questa situazione è degenerata perché c'è stata una prima rissa fra di loro, chiaramente c'è stato l'intervento dei camerieri e delle altre persone che erano lì e quindi diciamo che era una storia già finita. La cosa grave è che questo ragazzo allontanato si è ripresentato dopo alcuni minuti, ha praticamente preso un ombrello, tolto la parte alta dell'ombrello facendo diventare col manico, impugnandolo a modi di pugnale, questo ombrello come qualcosa che poteva iniziare ad essere, diciamo, creare dei danni un pochettino più rilevanti. Si è rituffato un'altra volta contro appunto questa coppia, queste due persone e lì accanto vi erano altri tavoli di persone anziane, di bambini, cioè quindi la situazione stava come dire degenerando. Ma l'istinto è quello che è, l'ho bloccato ma grazie all'aiuto anche di un vostro collega Falconi che poi è intervenuto a tenerlo fermo, a togliere appunto questo oggetto, l'ho tenuto fermo insieme a loro. Poi l'intervento della polizia è stato, devo dire, in pochi minuti. C'è una vecchia ordinanza che è ancora in essere ed è anti-accattonaggio. Ecco, il controllo su questo non mi pare ci sia, anche perché tutti noi frequentiamo il centro. Come si deve agire? Vede, la preoccupazione dell'avvocatessa, dopo parlando con lei, è domani mattina, diceva lei, quando io rincontrerò da sola questa persona che abitualmente gira per le vie del centro chiedendole l'emosina è comportante anche in un modo abbastanza violento, qualora non ottiene. Io come farò da sola a proteggermi? È una domanda a cui io sinceramente non ho saputo rispondere. Questa è una situazione che chiaramente deve essere valutata dai tavoli competenti in materia. È una situazione che comunque non è che ci sono... La bacchetta magica non c'è, questo è un dato di fatto. Bisogna avere fortuna. C'è anche un'ordinanza, ecco perché prima avevo ripreso questa questione, che andrebbe anche comunque rispettata. Sì, necessità di personale, necessità di avere persone su ogni strada, beh, è difficile.